Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Super Yes 3 e Super Yes 4 tanto che oggi non farò nessun gioco perché ho anche una buona notizia minecraft posso continuarlo ho risolto quel problema sapete no quel problema anche di the sims posso farlo oggi non li farò perché bisogna aspettare un bel po di tempo aspettare dei giorni in questo video vi farò vedere i giochi che porterò in questo canale che porterò in futuro per esempio battle of warship questo qui è un gioco in cui ci sono delle battaglie navali ma non quelle battaglie navali sapete quelle coordinate queste qui sono tutte di guerra missili e non è quella quella quelle battaglie navali normali sai sapete poi porterò anche free fire battlegrounds questo qui è bellissimo come gioco porterò anche questo qui come gioco è realistico poterò anche il car drift sono tutti macchine qui reali al cento pari cento porterò war robots ed ecco qui war robots porterò questo ma lo porterò pochissimo war robot perché però porterò lo stesso porterò anche coso cargo transport e dei camion o no che bisogna fare le consegne come se fosse un truck e forse forse porterò gangstar vegas la mafia games sapete come gta no come quelle cose di gta 5 sai quelle quei cazzeggi di gta è come questo non proprio uguale però anche questo sarebbe la stessa cosa quindi aca commentate iscrivetevi lasciate un mi piace lasciatemi un suggerimento di qualche altro gioco che posso portare e ciao aca alla prossima